ciao a tutti in questo tutorial vi volevo spiegare come realizzare questo piccolo scialle io l'ho fatto così piccino proprio da avvolgere attorno al collo però se voi volete lo potete realizzare in qualsiasi misura quindi anche molto più grande per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video trovate qui sotto nell'infobox tutti i link ai video dedicati ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo per iniziare abbiamo bisogno del filato io ho scelto questo che il justin baby della tessiland è un filato 100 per cento lana merinos superwash irrestringibile quindi stiamo attenti quando parliamo di lana merinos che sia musing free in 50 grammi ci sono 145 metri e qui consiglio di lavorarlo con i ferri del 3 o del 3 e mezzo io per avere una tensione corretta di 22 maglie in 10 centimetri devo lavorarlo con i ferri del 3 e mezzo ma lista a voi fare un campione verificare con quali ferri avete la tensione corretta anche se in questo tipo di progetto diciamo che se differisce di poco non è un problema grave potete utilizzare sia i ferri circolari che quelli in linea inoltre ci serviranno dei marcatori una gonda maglia e delle forbicine ma adesso iniziamo con le spiegazioni con il colore a tinta unita lascio una piccola codina perché devo avviare tre maglie con il metodo long tail quindi tengo la codina faccio passare il filo tra il pollice e l'indice e il resto lo tengo con il dito medio poi con il ferro da dietro trattengo il filato e vado su dal pollice giù dall'indice e nel mezzo e così ho creato le mie prime due maglie quindi non mi resta nient'altro che andare a creare la terza andando su dal pollice giù dall'indice e nel mezzo comunque per questo avvio se non lo conoscete vi lascio qui sopra o nel box informazioni il link al video dedicato adesso faccio un ferro di impostazione lavorando le tre maglie a dritto nel primo ferro dobbiamo lavorare la prima maglia due volte quindi sia nel filo davanti che dietro adesso vi faccio vedere entro normalmente e la lavoro a dritto poi senza far cadere la maglia dal ferro di sinistra vado nel retro e la lavoro anche nel filo dietro ritorto quindi e quindi da una maglia ne ho formate due ho fatto un aumento poi lavoro una maglia dritto e poi ancora lavoro questa maglia due volte quindi una volta normalmente non la faccio cadere vado dietro e la lavoro anche ritorto nel secondo ferro e in tutti i ferri pari passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla porto il filo dietro e lavoro tutto il ferro a dritto nel terzo ferro passo una maglia a rovescio senza lavorarla porto il filo dietro lavoro la prossima maglia due volte come vi ho fatto vedere prima 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 davanti e poi dietro lavoro un dritto lavoro una maglia lavorata due volte e poi lavoro un dritto nel quinto ferro passo una maglia a rovescio senza lavorarla porto il filo dietro lavoro un dritto poi lavoro una maglia due volte quindi prima davanti e poi dietro lavoro a dritto fino a tre maglie prima della fine in questo caso è solo una maglia quando ne ho tre lavoro una maglia lavorata due volte e due dritti prosegue il lavoro lavorando i ferri a rovescio quelli pari abbiamo detto passando una maglia rovescio e lavorando tutto il ferro a dritto e i ferri dispari come abbiamo lavorato il ferro numero 5 vado avanti così finché non ho sul ferro 21 maglie sono arrivata ad avere 19 maglie sul ferro adesso vi faccio vedere il ventunesimo ferro perché vi spiego anche dove mettere i marcatori per facilitare il lavoro qui la prima maglia la passiamo a rovescio senza lavorarla passiamo il filo sul retro poi lavoriamo un dritto e qui conviene mettere un marcatore in maniera da delimitare le due maglie diciamo così del bordo la prossima maglia è quella da lavorare due volte per fare l'aumento poi lavoro a dritto fino ad arrivare ad avere tre maglie sul ferro di sinistra ok a questo punto lavoriamo una maglia due volte e facciamo l'altro aumento qui metto il marcatore che delimita le due maglie del bordo adesso ho 21 maglie sul ferro quindi nel ferro di ritorno diciamo così quello del retro ed è un ferro pari passo la maglia a rovescio senza lavorarla porto il filo sul retro del lavoro e lavoro tutto il ferro a dritto adesso ho 21 maglie sul ferro e prendo il filato colorato lavorerò appunto un ferro di andata e uno di ritorno col filato colorato quindi la prima maglia la passo a rovescio senza lavorarla porto il filo sul retro prendo il mio filo colorato e a questo punto devo lavorare dieci maglie nel senso questa più altre 9 quindi contiamola comunque come uno in maniera che così non ci sbagliamo due passo anche il marcatore 3 faccio anche il mio aumento quindi questa è la quarta 5 6 7 8 9 e 10 quindi o diciamo così 10 maglie sul ferro di destra a questo punto devo stare attenta perché devo concentrarmi su queste tre maglie centrali e il ferro di destra lo devo andare a inserire nella terza maglia quindi nella maglia centrale c'è la terza scusate nella maglia centrale però non così normalmente ma uno due e tre come dire gobbette sotto le chiamo gobbette sono queste cunette diciamo così che ha formato il legaccio quindi una due e tre vado sotto faccio un dritto e lo tiro lo devo tirare perché lo devo far arrivare al livello delle altre maglie quindi questa sarà una maglia allungata a questo punto lavoro una maglia dritto normalmente e poi inserisco sempre nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia a dritto ma allungata poi lavoro un'altra maglia dritto poi ancora dentro maglia allungata un dritto e quindi ho lavorato tutte le tre maglie che vi facevo vedere prima e infine ancora una maglia allungata aspettate che non l'ho presa ok eccola qui quindi avrò 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie diciamo che ho lavorato in in tre maglie che avevo centrali e il punto centrale qui sotto ve lo faccio poi se mai rivedere per farvi capire meglio adesso proseguo lavorando tutto a dritto arrivo alla maglia prima del marcatore che lavoro con l'aumento quindi due volte passo il marcatore e due dritto nel ferro di ritorno lavoro quasi normalmente diciamo così perché passa una maglia rovescio porto il filo dietro e lavoro a dritto fino ad arrivare all'inizio della della mia chiamiamola così conchiglia del mio punto operato eccomi a questo punto siccome qui da tre maglie che avevo in realtà sono diventate 7 devo andare a lavorare due maglie insieme per 12 tre e quattro volte quindi ho fatto delle diminuzioni e poi il lavoro a dritto fino alla fine del ferro ecco come si presenta sul davanti del lavoro adesso proseguo con il filo marrone quindi passo una maglia maglia a dritto senza lavorarla porto il filo dietro a questo punto lascio il filo colorato e riprendo quello marrone e lavoro come lavoro tutti i ferri a dritto quindi tutti praticamente come diciamo così il ferro numero 5 quindi lavorando un dritto passo il marcatore una maglia lavorata due volte tutto a dritto fino a tre maglie prima della fine perché lavorerò una maglia lavorata due volte passo il marcatore e due dritti e proseguo lavorando diciamo così normalmente quindi come ferro numero 5 e i ferri pari tutti nella stessa maniera fino ad avere 27 maglie sul ferro quindi questa vedete lavorata due volte passo il marcatore e due dritti quando sono sul dritto del lavoro per portare in su il filato non in uso cosa faccio passo una maglia dritto senza lavorarla la porto sul retro e a questo punto incrocio in questa maniera i filati quindi riprendo il filato che devo utilizzare e proseguo lavorando normalmente arrivata a 27 maglie cambio colore quindi passo la prima maglia senza lavorarla a rovescio porto il filo dietro qui cambio il colore con il filato colorato e lavoro un ferro a dritto diciamo così dalla dal dritto del lavoro normalmente quindi creando anche gli aumenti nel ferro di ritorno chiaramente passo la maglia passo la maglia a rovescio senza lavorarla e lavoro a dritto tutto il ferro nel ferro seguente ritorno a lavorare con il marrone quindi passo a rovescio una maglia senza lavorarla porto indietro il filo prendo quello marrone e lavoro normalmente chiaramente visto che sono sul dritto del lavoro devo lavorare anche gli aumenti e vado avanti a lavorare con il marrone per quattro ferri ho fatto i quattro ferri con il marrone e sono arrivata ad avere 33 maglie sul ferro adesso devo fare il punto operato a conchiglia come l'abbiamo fatto qui allora qui avevamo fatto così avevamo lavorato a dritto per 10 ferri ricordandosi che siamo sul dritto del lavoro quindi ci sono gli aumenti da fare quindi abbiamo lavorato a dritto ed erano 10 maglie abbiamo fatto il punto operato e poi abbiamo continuato e abbiamo finito con 10 maglie adesso dobbiamo fare praticamente la stessa cosa ma lavoriamo a dritto chiaramente con aumenti e 10 maglie facciamo il punto operato lavoriamo 9 maglie facciamo il punto operato e finiamo con 10 maglie adesso comunque ve lo faccio vedere passiamo a rovescio una maglia senza lavorarla portiamo il filo dietro prendiamo il filo colorato lavoriamo un dritto e quindi siamo già a due maglie perché dobbiamo contare anche la maglia che passiamo marcatore maglia con aumento quindi 3 4 5 6 7 8 9 10 a questo punto prendiamo in considerazione le prossime tre maglie e andiamo ad inserire il ferro di destra nella terza gobetta sotto quindi una due marroni la terza e l'ho fatto apposta così è più semplice lavorarlo è proprio vedete la gobetta colorata quindi non la terza sotto la prima maglia ma la terza sotto la maglia centrale quindi 123 ci infiliamo qua e creiamo la nostra prima maglia allungata mi raccomando allungate la giusta perché se no il lavoro vi tira ma neanche troppo altrimenti qui si avrebbero delle asole insomma che non resterebbero aderenti al lavoro quindi maglia dicevamo allungata poi lavoriamo un dritto e ancora sotto sempre nello stesso punto maglia allungata un dritto sotto maglia allungata un dritto e per l'ultima volta sotto maglia allungata eccola qui a questo punto lavoriamo 9 maglie quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e prendiamo in considerazione le prossime le prossime 3 maglie e facciamo la stessa cosa nella maglia centrale andiamo sotto 1 2 3 gobetta entriamo maglia allungata un dritto sotto maglia allungata un dritto sotto maglia allungata un dritto e poi proseguiamo lavorando le nostre ultime 10 maglie quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 perché abbiamo l'aumento 9 e 10 e così abbiamo fatto due vedete due conchiglie ferro di ritorno quindi giriamo il nostro lavoro la prima maglia la passiamo sempre a rovescio senza lavorarla e lavoriamo a dritto finché non incontriamo le maglie allungate diciamo così delle conchiglie del punto operato io la chiamo conchiglia in realtà ragazze non so come si chiama perché come al solito io alcuni punti li ho imparati da piccola e o mi hanno detto dei nomi e io ho mantenuto quelli oppure ma me li sono inventati io e quindi poi mi sono rimasti e quindi non non so sinceramente devo andare a verificare comunque se lo sapete come si chiama scrivetemelo qui sotto nel nei commenti quindi siamo arrivati al gruppo vedete dei punti operati e adesso lavoriamo due maglie insieme insieme a dritto per quattro volte quindi 1 2 3 e 4 poi abbiamo le nostre nove maglie 1 2 3 4 5 6 7 8 hanno scusate sono 8 perché in realtà una è vero l'abbiamo lavorata in ultimo è giusto scusate 8 maglie e poi ancora 4 maglie prendendone due assieme quindi 1 2 3 ed ecco qui vedete 4 nella quarta ecco perché sono 8 maglie non 9 perché nella quarta io prendo anche vedete una maglia normale quindi 4 e adesso finisco 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 proprio perché come successo in mezzo noi dopo aver lavorato fatto cioè quando lavoriamo le maglie 2 a 2 della della nostra conchiglia lavoriamo anche tra virgolette una maglia in più per chiudere la conchiglia infatti adesso se lo vediamo dal dritto abbiamo una conchiglia chiusa sia all'inizio che alla fine vedete e adesso proseguiamo lavorando con il filo marrone come abbiamo fatto prima quattro ferri poi lavoreremo un ferro con almeno due ferri scusate con il filo colorato e andiamo avanti così comunque adesso provo a farvi uno schema in maniera da farvi capire meglio ok io ho continuato a lavorare fino a un'altezza di circa 43 centimetri comunque voi potete farlo ampio e grande chiaramente quanto volete adesso faccio l'ultimo giro di punto operato a conchigliette e poi vi faccio vedere la chiusura quindi passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla e poi prendo il filo il filo colorato questa la conto come prima maglia quindi 23 aumento 4 5 6 7 8 9 10 poi prendo in considerazione come abbiamo detto anche prima le tre maglie seguenti e quindi entro nella maglia centrale di tre gobbette sottostanti comunque entro sempre nel giro colorato che ho fatto sotto e creo una maglia allungata e una normale quindi 12 rientro 34 rientro 5 6 e rientro per l'ultima volta 7 poi conto 9 maglie 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e rifaccio un'altra volta il punto a conchiglia quindi prendo in considerazione le prossime tre maglie e dentro sotto e vado avanti così fino alla fine del ferro ho fatto la mia ultima conchiglia e adesso vado a finire il ferro lavorando tutte le maglie dritto questa volta sono 10 maglie dritto quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 con l'aumento 9 e 10 nel ferro di ritorno faccio la chiusura sarà una chiusura semplice con accavallata quindi lavoro una prima maglia dritto una seconda maglia dritto e vado ad accavallare la prima maglia lavorata alla seconda e quindi proseguo lavorando a dritto e accavallando la prima maglia sulla seconda lavoro così anche quando incontro le maglie operate della conchiglia comunque adesso vi faccio vedere ecco qui ho ingrandito l'immagine in modo che si possa vedere bene adesso andiamo a prendere una maglia per volta attenzione perché tante volte si sovrappongono si accavallano quindi le dividiamo aiutandoci magari con le mani iniziamo a lavorare una maglia per volta quindi nel lavoro una dritto e a cavallo e ancora una dritto e a cavallo e vado avanti così lavorando anche tutte le maglie della conchiglia perfetto ho finito di chiudere tutto adesso taglio il filo e nascondo le codine ora se volete potete creare delle nappine come questa da attaccare alle tre punte dello scialle chiaramente una cosa opzionale se vi piace lo fate altrimenti potete finire lo scialle così io utilizzo un cartone questo è 12 cm x 6 cm lo piego a metà così e poi inizio ad avvolgere senza tirare per io farò 35 volte il filo in questo modo taglio il filo e poi prendo una gugliata abbastanza lunga io farò quattro spanne quindi faccio due spanne e poi doppio per chiudere in alto la nostra nappina per fare le nappine tutte uguali io appunto conto tutto cioè misuro tutto faccio lo stesso numero di giri lo stesso alla stessa misura per quanto riguarda appunto la chiusura in maniera che così mi vengono proprio delle nappine identiche infilo l'ago e poi tenendo il filato doppio entro a metà del cartone per andare a a chiudere la nappina dall'altra parte così vado poi a metà in questa maniera e faccio un nodo doppio ecco qui poi dall'altra parte taglio il filo entrando con la forbice taglio e verifico che non ci siano fili più lunghi come sempre ci sono quindi inizio a parificare prendo un'altra gugliata di filo lunga circa due spanne e chiudo la testa della nappina faccio passare decido quanto la voglio grande io solitamente per le nappine così piccole tengo la misura di un dito sistemo bene i fili e poi faccio due nodi quindi uno e due poi avvolgo tante volte la testa della nappina quando mi rimane poco filo fermo infilo un ago proprio nel mezzo inserisco il filato con cui ho avvolto la testa dentro lago sono due fili e quindi tutte e due devo infilare aspettate perché ok 1 e 2 ok così e li nascondo all'interno in questa maniera a questo punto non mi resta nient'altro che controllare e tagliare nel caso i fili più lunghi eccola qui altra nappina fatta fatte le tre nappine le vado ad attaccare ai tre angoli dello scialle bene come avete visto realizzarlo è stato semplice il mio scialle misura 43 centimetri circa di altezza e un metro di larghezza per realizzarlo io ho utilizzato 150 grammi 100 grammi di tinta unita e 50 grammi invece di sfumato poi a parte ho fatto le nappine con un altro gomitolo chiaramente per realizzarlo più grande o più piccolo vi basterà prendere più o meno filato per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao